Ragazzi, segnatevi questo giorno perché sto per fare quello che non ho mai avuto il coraggio di fare in 5 anni di liceo. La mia pelle si sta decisamente riempiendo troppo di brufoli, quindi credo proprio che andrò a scuola struccata. In più, questo è uno dei sabati in cui la mia voglia di andare a scuola è veramente sotto lo zero. Perché penso che lo intuite dalla mia voce che ieri sera ho fatto tardi a cantare a squarciagola con i miei migliori amici, quindi il sonno proprio che ve lo dico a fare. Aggiungiamoci anche che sto al secondo giorno di ciclo e io letteralmente muoio il secondo giorno. Dunque, convenite con me che la soluzione a tutti questi problemi è andare a scuola in tuta. Ma dato che sono completamente struccata, almeno ho scelto una tuta carina per non sembrare troppo... una scappata di casa. Dai, con questo ho rimediato. Poi questa qui la maglietta è termica e guardate, c'è anche le mani coperte. Quindi per oggi è perfetta. Ammetto che apprezzo più queste tutozze di Oshans Apart che i completini super attillati.